Il pilastro, solo il pilastro di controllo, solo il pilastro di controllo, solo 5, ma vediamo che finale. Signori, scusate, se permettete, qual è la tecnologia in discussione? È la capacità di rimodellare l'unorecchio, insieme ai pilastri formano un ponte spaziale, io lo progettato e io solo lo posso controllare, scrivano le vostre leggi della fisica e trasportano la materia nel tempo e nello spazio. Rispudenti per risorse, per i contati. Rispudenti per aiutati, bombanti, armati, servizi o buoni, un messo inestacolato, non ha questo la posizione militare. È la nostra tecnologia, si deve essere restrittuita. Sì, è il mio amico, non fa conto, non potete fare le armi di distribuzione di massa, ma non sono di posto, dovete portare la cana prima, una finalità che va non poter chiedere in il film dagli animali. Non volerò il suo paro di soddisfezza se per racconto della realità del Dio. I dettivi che non devono capire che il ponte spaziale è qui, o che in mano loro, mi diferebbe la fine del vostro mondo. La mia informazione è un consiglio su quale pianeta passare le macchine. Vendi dalle attivate. Oh, che piccolò, guarda, 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 guarda. E come è che è che torna a casa, torna al lavoro, le fotocoppie, insomma? Questa è un'unità per agenti veterani dell'Italia, tutte le forze speciali, non se ragazzi sento più in una posizione. E non sono interessate, signora. Non te va in più, ora non sono la signora. Ma è una donna, non è? No, 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 sono due. Sì, della qui. Chiedo solo, bisogna anche io una medaglia. La presenti dentro. E non è una cosa complicata, nessuno lavora con gli altri, ma si sente più attraverso o ronco la mia cittina del comando. Andiamo, ci vediamo. Hai fatto anche i conti? Con tutto il rispetto, giovanotto. A presto, faccia il canto, ma non c'è il soggetto. Stai in un'istazione. Un semplice in un'istazione. È il mio nome. Un semplice in un'istazione. 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 Grazie a tutti.